Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi nuovo video nel quale andiamo a parlare di quella che è la squadra che alla fine ho scelto per affrontare il primo torneo ufficiale della stagione che si disputerà il 28 e il 29 novembre. Settimana scorsa ci eravamo lasciati con un interrogativo tra due squadre, ma vi devo dire che EA ha fatto saltare tutti quelli che erano i miei piani e anche i vostri che vi eravate tanto prodigati per darmi dei suggerimenti. Di fatti le restrizioni di cui vi ho parlato sono cambiate. Sono cambiate, quelle rimangono valide per il mondiale per club, ma non valide per quanto riguarda i tornei di EA. Nuove restrizioni che implicano un'icona 90+, in campo. Qualora non andate a utilizzare un'icona 90+, è possibile andare ad aggiungere un'icona alla fascia inferiore, ovvero un'icona fino a 89+. Qualora non utilizzate due icone ma solo una, potete andare a utilizzare invece tre giocatori sopra il 90 di overall. Dopodiché la panchina deve essere tutta oro da 75 fino a 88, il portiere è libero quindi può essere anche un'icona, non rientra nel computo totale delle icone e non vi è più la limitazione per quanto riguarda la valutazione della rosa. Quindi al momento questa, che adesso vi farò vedere la squadra che ho scelto, che sto testando, con la quale mi sto trovando anche abbastanza bene. Quindi cambio di scena, ce la andiamo immediatamente a spulciare pezzo per pezzo e poi andiamo anche a vedere quelle che sono le tattiche e la disposizione in campo. In porta, purtroppo, non c'è più il mio amato Allison, perché che se ne dica a me il buon Allison parava, ma abbiamo il buon Alfonso Areola. L'ho preso perché avevo dei problemi di intesa, avrei potuto mettere Yoris, Yoris è durato due partite, giusto il tempo di farmi prendere la malaria, fare tre papere e andarsene. Areola non sarà questo campione, però tra i pali il suolo fa, pecca un po' sui tiri da fuori aria, però l'ho trovato abbastanza solido. Qualora dovessi riuscire a fare i crediti e qualora dovessi fare questa mossa, del quale comunque non sono ancora certo, potrebbe essere sostituito Last Minute da Van Der Sarro 89, non il baby nonostante sia uscita la sfida icona. Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro, abbiamo il solito Semedo inamovibile, che per me è il miglior terzino del gioco, anche davanti a Walker, che per quello mi riguarda. A fargli compagnia in difesa non abbiamo più il mio beneamato Virgil, ma abbiamo Joe Gomez, il fratello minore di Virgil, diciamo così. Una carta che ho trovato primo proprietario, quindi abbastanza fortunato, scambiabile, che mi piace tanto perché per me che difendo alto, molto manuale, avere un giocatore così rapido, così aggressivo, è veramente una pacchia. Quindi il buon Gomez, diciamo che in qualche modo non mi fa rimpiangere Virgil, anche se chiaramente fa meno autoblock e interventi automatici. A completare il pacchetto difensivo abbiamo Raphael Varane, solito, classico, che ormai è qui da tempo immemore, e il buon Ferlammendi. Anche lui, insomma, presente praticamente dal giorno 1, miglior terzino del gioco, per me non se ne andrà facilmente. Passando a quello che è il reparto invece di mediana del campo, io ho deciso di fare il mio lean sull'icona con Rude Gullit. Quindi 5 milioni 8 l'ho acquistato, anche questo, insomma, io lo reputo un tassello veramente fondamentale, il giocatore per me più forte del gioco, più devastante, più che ha impatto nelle partite, soprattutto a livello competitivo, e tiene da solo il centrocampo, oltre che è in grado anche di essere pericoloso in fascia, in zona offensiva. A fargli compagnia una new entry, una new entry che magari potrete immaginare è che è Renato Sanchez livello Saiyan numero 3, con queste treccine bionde, una carta incredibile. Vi chiederete magari perché hai preso sto Renato che è uguale all'IF, ho detto sì, ok, ci sta, avevo soldi da buttare, ma questo praticamente voi lo pagate già a prezzo di primo upgrade, quindi sono stato ben felice di prenderlo, perché secondo me ne può prendere anche sicuro un altro di upgrade, ed è veramente tanta tanta roba, ma lì viene eliminato e lo prendo lì, speriamo di no. Per quanto riguarda invece la zona esterna del campo, abbiamo la conferma per Neonar Junior, primo proprietario, nessuno lo toglie, ogni tanto lo metto anche prima punta, switchando, e dall'altro lato abbiamo dovuto abbandonare il buon Manet e abbiamo fatto l'acquisto di Marcus Rashford IF, che vi dirò, mi pensavo fosse molto molto peggio, invece bene o male il suo lo fa, non si speedboosta come Manet, però magari finalizza un pelo in più, comunque è agile, ha un po' più di fisico, 5 di skill, quindi lo gradisco. Devo dire che il buon Rashford non fa rimpiangere più di tanto il vecchio Sadio. Per quanto riguarda le due punte, abbiamo la prima, che è Kylian Mbappé, nessuno l'ha smosso, rimasto qui, 534 partite, 637 gol e 431 assist, insomma, penso che parlino a suo favore, e a completare abbiamo Leroy, Cristiano Ronaldo, raga, per me è giocatore devastante, 534 partite, 766 gol e 323 assist, veramente un giocatore quest'anno pazzesco, nonostante io l'anno scorso l'abbia odiato, veramente lo reputo inamovibile, non vedo d'ora che esca il Toti, sul quale probabilmente ipotecherò casa e il fondo destinato ai miei futuri figli, quindi al momento la squadra appare così con la possibilità di inserire Van der Sar, quando meno me l'aspetto e ve l'aspettate. Per quanto riguarda le tattiche, invece, sono queste qui, quelle del video del 4-4-2 con i mediani, quindi equilibrato 4-7, equilibrato 4-4, come istruzioni le stesse, ma ultimamente sto testando a Gullit, sia attacco equilibrato che addirittura in alcune partite molto statiche avanza, per avere il suo pieno supporto nella manovra offensiva, e devo dire che non mi trovo affatto male, anche se preferisco avere un po' più di copertura nelle partite, diciamo, competitive. Quindi ragazzi, questa è la squadra, l'abbiamo dovuta praticamente smantellare rispetto alle previsioni fatte nello scorso video, fatemi sapere che ne pensate, lasciate un like, un commento, vi ricordo di iscrivervi al canale perché stiamo crescendo bene, mi fa strapiacere, e nulla ragazzoni, io vi ricordo l'appuntamento e il live ogni giorno sulla piattaforma Viola, trovate tutti i link in descrizione, e nulla, vi saluto, fate bravi, ciao ciao!